Guardate che ieri proprio su Luffington Post, visto che c'è la giornalista Fusani, c'era un bellissimo pezzo dove veniva fatto emergere che i primi comuni ad essere fortemente ostili a nuove politiche di accoglienza non sono mica solo i comuni a guida leghista, sono soprattutto i piccolissimi comuni del sud a guida partito democratico. Primo perché non ce la fanno più a gestire queste politiche di accoglienza, secondo perché spesso e volentieri i costi dell'accoglienza... Però mi scusi, occupare le prefetture ne sembra una soluzione onorevole Molteni? Occupare le prefetture diventa una soluzione esattamente nel momento in cui le prefetture che per funzioni istituzionali dovrebbero fare altro, cioè dovrebbero garantire la sicurezza dei cittadini, sono diventate delle affittacamere o delle agenzie immobiliari per gli immigrati. I prefetti non devono requisire gli immobili pubblici o addirittura gli immobili privati attraverso le agenzie immobiliari per dare ospitalità, vitto alloggio agli immigrati. Fino a prova contraria le prefetture che io francamente abolirei, anziché abolire le province si sarebbero dovute o si dovranno abolire le prefetture. Io credo che i compiti e le funzioni delle prefetture siano assolutamente altri. Per cui la proposta di Maroni che è da un lato la diffida ai prefetti e dall'altro lato una comunicazione ai comuni dicendo che i comuni, noi sono mesi, sono anni che chiediamo lo sblocco del patto di stabilità ai comuni per garantire servizi ai cittadini. Nel momento in cui il Presidente del Consiglio dice sblocchiamo il patto di stabilità per dare soldi e incentivi ai comuni per accogliere gli immigrati, io credo che sia una proposta francamente demenziale.